ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato a voi a voi e dai vostri video ai vostri orologi e tutto ciò che concerne il vostro simpatico hobby tutto quello che ci gira attorno compresi gli accessori le tovaglie e le vettovaglie che fa anche rima oggi non ho tanta voglia di disquisire se non che abbiamo quattro video messi dentro quattro è un numero abbastanza normale quindi la durata sarà abbastanza decente nell'orologio del giorno è questo bellissimo ancora una volta l'omogene idroconquest diametro 41 ghiera rossa calibro l619 alias eta 2892 che a noi ci piace tanto e che allora l'amico del canale mi aveva mandato una maglia l'ho messa con la maglia inserita troppo largo mi viene anche stringendo i forellini quindi l'ho dovuta levare in attesa dell'estate perché d'estate poi mi servirà e ho messo il bracciale così senza una maglia aggiuntiva leggerissimamente a misura è proprio se dovesse ingrossarmi il polso e non solo quello sarebbe un problema non si trova mai la via il mio amico caravanschi mi disse che quando lui aveva l'ogine idroconquest questo stesso modello ma con la ghiera blu fece fare dei forellini agenti aggiuntivi sulla clasp per regolare ancora di più l'escursione perché tre forellini cioè due posizioni ma alla fine non sono sufficienti una piccola pecca di questo l'ogine idroconquest che però ci piace tanto a noi pluralis maiestatis fuoco alle polveri con il primo video barra spaziatrice pronta a subire colpi e noi diamo il colpetto al volo ciao davide sono ciao a tania questo è il terzo video che ti mando il primo te lo mandai un anno fa e secondo è stato una cartolina delle vacanze di quest'estate bravo non so se ti ricordi ma io sono quello che ha restaurato chiamolo diciamo restaurato il longin 30 l di cui ereditai solamente il movimento da mia madre vendette lei tutto il resto la cassa e tutto il resto in oro e in un momento di difficoltà e ho deciso qualche tempo fa di re incassare tutto quanto ho visto che l'anno scorso la cosa ha acceso qualche discussione però giusto per tornare un attimo sull'argomento l'obiettivo era solo quello di portare al posto qualcosa che mi era stato lasciato da mia madre cioè non è certo quello di spacciare una cosa per qualcosa che non è certo certo tutto sommato il risultato è anche carino è chiaro non lo chiamo 30 l non è un longino originale ma se non altro è un ricordo per me ma certo c'è le disquisizioni si fanno per amor di retorica no per puntualizzare come dovrebbe essere in teoria una situazione non certo per andare a spirucchiare nei fatti altrui nei tuoi fatti perché per come si fanno disquisizioni retoriche per dire per mettere dei paletti su come dovrebbe essere una cosa in generale poi ho detto questo credo che dall'anno scorso le differenze siano più in negativo che in positivo nel senso che sono più pezzi che sono andati via rispetto a quelli che sono entrati male e in particolare ora penso ti ricorderai anche questo fortis quello che le mani 51 00 capito che il marchio mi piace a sorpresa nel senso che non lo stavo cercando ho beccato questo cosmonauts però solo tempo in questo caso un po più recente proprio questa primavera tutto in titanio questo è un carro armato perché è un carro armato molto grande lo considera io sempre io un polso da 16 centimetri e mezzo quindi è bello vistoso al polso bravo però però è davvero un bel pezzo leggibilissimo leggero perché poi essendo in titanio leggero e grazie al titanio le dimensioni diciamo non si rispecchiano poi nel peso che avrebbe se questo fosse effettivamente in acciaio diciamo che risulta molto più portabile certo 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 rispetto all'equivalente modello in acciaio mi piace con tutti questi numeri arabi intorno al quadrante che mi ricorda un pochino anche il mio idroconcast a me piacciono gli orologi con i numeri arabi tutti a corollario l'avrete capito no anche lo spirito è proprio veramente è l'essenza di questa tipologia di orologio ti dici che ti è capitato non lo volevi non lo cercavi ti è capitato anche a me anche a me succede ma perché non ci rendiamo conto che non siamo noi ma è qualcun altro che decide per noi è capito quindi anche io e non lo volevo non lo volevo sto qua mi è capitato dovuto cliccare yacht master non lo volevo era lì ho dovuto prenderlo capito chiaro che diciamo io sono un amante dei cronografi e dei diver non ti nascondo che dopo aver provato questo mi tenta diciamo lo stesso modello ma la stessa referenza ma modello cronometro quindi ci sto facendo un però grafo e parlando di cronometri cronografo questo l'ho presi all'inizio di quest'anno è un acquastar dip star crono ci piace proprio quello che ti feci vedere durante il video cartolina delle vacanze questo se si tratta di un cronografo con impermeabilità di 200 metri e che porto pure in immersione ci siamo che grazie a lui ho cominciato a vedere in maniera un po differente gli orologi da indossare al polso nel senso che avendo un polso piccolo ho sempre cercato di utilizzare acquistare orologi di dimensioni contenute in modo da insomma non sembrare dei sempre di avere dei patacconi al polso però cavolo questo è un diver ed è pure cronografo deve essere cazzuto e grande o cui se io ambissi solo ad avere orologi che poi stanno bene al polso che non siano troppo grandi per il mio polso mi perderei così tante cose che ho detto andiamo avanti lo stesso prendiamo quello che ci piace poi come lo indosso l'indosso d'altronde questo deve essere grande è fatto così e tra l'altro lo porto pure in immersione tanto che ho fatto anche qualche segnetto quest'estate segnetti fatti tra l'altro in un momento diciamo di difficoltà che ho avuto sott'acqua e che me lo ricorderanno me lo ricorderanno nel tempo per cui da allora devo dire che lo indosso anche molto più fieramente rispetto bravo orgoglioso devi essere un altro pezzo che è entrato è l'orologio che ho al polso questo è un crema un crepa skyman 1200 orologio che ho preso questa primavera credo mi sia arrivato l'ho preso in variante bianca ma con diciamo un dial aggiuntivo ho deciso di cambiarlo volevo come vedi ho una maggioranza di orologi blu lo squale l'acqua star il sego skx pensavo che avere un dial bianco potesse essere una buona idea invece alla fine dei conti è il blu che mi piace quindi ho deciso di farlo cambiare dal mio orologiaio ed effettivamente adesso lo gradisco molto di più bravo in ultimo questo è un orologio che è arrivato da poco questo navi timer top del 2001 top top questa è la una delle ultime referenze di questo corso in particolare diciamo che questo modello nacque con un quadrante con quadrante sferi altrizio negli ultimi anni produssero qualche modello gli ultimi modelli con quadrante sferi ma in luminova ora io sono uno a cui gli orologi piace usarli non sono un particolare amante del trizio perché non mi piace l'ingellimento del quadrante e non mi piace il fatto che perdano luminosità per questo ho cercato esattamente questa referenza sono riuscito a trovarla dopo un po di difficoltà esattamente come la volevo effettivamente è un orologio che diciamo può essere allora sì strano se abbastanza strano no diciamo anche posso essere c'è mezzo vedo che incominci cioè cominci che hai scelto l'orologio grande anche in questo caso perché la vita immer deve essere così strano che non ti piace altrizio quando a ti piace insomma che vada un pochino a virare che diventi quel giallino naturale perché poi li fanno anche artificiali al giorno d'oggi questi invecchiamenti ora ho notato una cosa guardate questo centurino qua ce l'avevo anch'io utilizzati anch'io praticamente alla misura dell'ansa interna ok come tutti gli altri però poi parte allargandosi a coprire la quota del esterna delle ansie fa una sorta di scalino questo serve e l'ho utilizzato anch'io in certe situazioni per creare una maggiore visuale all'orologio al polso se magari l'orologio è troppo piccolo oppure c'ha un'ansa troppo un orologio che è un'ansa da 18 magari come ce ne sono no e ti piacerebbe più da 20 perché riempi un con un cinturino più largo ecco questo scalino qua è il trucco per fare il l'orologio più presente al polso così mi andava di dire questa boutade paragonato agli orologi di oggi visto insomma la luminescenza data dal materiale ovviamente l'ho preso col suo bracciale originale lucido il bracciale chiamato proprio navi timer solo che per l'utilizzo di tutti i giorni lo trovo un po troppo sbrilluccicoso è bellissimo è però sbrilluccicoso per cui ho preferito associarlo a questo cinturino in pelle diciamo stile aviatore che poi ci sta anche con il con il lo stile della dell'orologio e diciamo che mi sento un po più tranquillo un po meno lo trovo un po meno appariscente rispetto a prima è un orologio che ho cercato per tantissimo tempo saranno stati quattro anni non è che l'ho cercato ma è allora io ho cominciato a collezionare orologi più o meno nel 2020 e nel 2020 questo orologio mi colpi l'ho misi lì da parte non me lo potevo permettere i tempi fino a quando finalmente quest'anno ci sono potuto arrivare bravo e ho trovato esattamente quello che volevo quindi è un orologio che indosso con orgoglio bravo bravo orgoglioso detto questo diciamo che conosci già tutto il resto della collezione quindi il doxa lo squale appunto lo iema l'anart questa volta cinturino con in pelle con bund bel pezzo pure questo qui è bello cacciotto ma ci sta e niente questo è quanto per questa volta spero di riuscire a mandarti un altro video con degli altri aggiornamenti l'anno prossimo ciao 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 complimenti una bella collezione alla quale do 8 al certo punto quando hai tirato fuori l'anart che è veramente un bello orologio di nicchia proprio da intenditore diciamo così è il mezzo punto è salito il volo stup stonk come si può dire bello bello niente non so cosa dirti in realtà perché si vede si vede cioè il fatto che hai messo nel mirino un orologio nel 2020 e poi te lo si è preso nel 2024 la dice lunga sulla perseveranza che hai cioè la capacità di la resilienza come si suol dire questi questi tempi la resilienza termine che piace tanto la perseveranza di stare lì attendere finché non è il momento e non aver cambiato idea perché io dal 2020 al 2024 sai quante volte cambiato idea basti pensare aiuto master il video è stato del 2020 quello che lo denigravo e poi nel 2024 l'ho preso panerai 2020 giocavo col cane dicevo sono brutti i panerai e lui mi diceva sì 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 no scherzavo ora è il mio mirino cioè capito si cambiano te dal 2020 al 2024 il navi timer quel modello lì sempre lo stesso modello dritto coi paraocchi bravo ti stimo per questo io cambio idea cambio idea ma non me ne faccio una colpa perché la coerenza non è rimanere sempre sulle stesse linee è avere la capacità di accettare che stai cambiando linea questa è coerenza prossimo video va che il filosofo è meglio non farlo ciao davide ciao federico federico ti invio questo video dalla sicilia esattamente dalla provincia di enna per fare la mia piccola raccolta di orologi intanto ti ringrazio per tutti i contenuti che posti sempre più spesso sul tuo canale mi complimento con te per i traguardi mi stai raggiungendo grazie saluto chiaramente tutti gli amici del canale inizio per farti vedere molto rapidamente i miei quarzi e speriamo prima è questo ricevuto come regalo di laurea gucci verosimilmente beccherò un ciofe calvert certo mi sembrava giusto fartelo vedere il secondo è questo che è un un po' evit you it non so come si pronuncia con la sua maglia milanese nera abbastanza carina facile da indossare ancora un philip watch questo anche questo regalo di laurea da quelli che sono stati per tanti anni i miei coinquilini sono rimasti due miei fraterni amici l'ho indossato molto durante la specializzazione quindi diciamo ha fatto la guerra ha fatto la guerra non conoscevo nulla sull'orologeria meccanica e infine l'ultimo quarto è questo quarzo è questo bulova forse difficoltà a mettere a fuoco è un bulova portoghese con il movimento ad alta frequenza quindi a batteria però con questo movimento della lancetta che simula comunque sembra quasi un movimento automatico quindi con la lancetta dei secondi va molto veloce cinturino in pelle molto comodo mi è stato regalato quando ho fatto da testimone di nozze un mio bellissimo amico passiamo adesso agli orologi meccanici quando ancora io non conoscevo assolutamente il mondo dell'orologeria meccanica ricevetti il primo bensì ormai dieci anni fa che questo hamilton regolatore questo hamilton abbastanza particolare l'ho ricevuto da per la laurea dalla mia allora fidanzata che adesso è mia moglie a un movimento h12 dell'emilton anzi ti chiedo qualcosa con questo movimento e non lo so informazioni in più non lo so con l'h12 sinceramente non so ma è sicuramente una declinazione dell'h10 nel senso che l'h10 ha tutte le lancette centrali questo a quella delle ore disassata e quella dei secchi piccoli secondi disassata l'unica centrale è quella dei minuti e sarà dei ruotismi che ha messo dentro per muovere per spostare quelle sfere e diventa h12 ma le caratteristiche su quelle dell'h10 cioè un età 28 24 nel quale sono state avvassate le alternanze la spirale libera magari silicio non lo so questo di che anno è solite cose che lo conosco veramente poco comunque dopo dieci anni abbondanti è sempre precisissimo parte subito tiene il tempo che una bellezza probabilmente devo iniziare a pensare di revisionarlo anche se lo indosso molto poco lo utilizzo fondamentalmente con con gli abiti l'ho indossato infatti anche il giorno del mio matrimonio ancora sempre come orologi meccanici iniziamo a vedere quelli che invece ho acquistato io dopo diciamo da circa due anni a questa parte cioè da quando hanno iniziato a seguire il tuo canale bravo che prima è questo perfetto anche se questo a dir la verità mi è stato comprato a sorpresa diciamo da mia moglie però ero ruffi a chiamare un periodo in cui ero prossimo ad acquistarlo siamo andati il negozio a vederlo insieme e poi lei me l'ha fatto trovare a casa è un 6 pro sport 5 gmt automatico insomma lo conosci benissimo bracciale giubilì che lo rende molto comodo molto bello da indossare fa sempre la sua figura soprattutto questo riflesso blu ecco non so se con la luce riesco a farlo vedere ma al sole sia il quadrante che la parte della ghiera bassa diciamo ecco la parte blu hanno un riflesso veramente veramente carino che stanno sta molto bene con la piccola scritta gmt e con la lancettina rossa appunto nella processione gmt bell'orologio ancora altri due orologi visti rivisti sul canale cioè questa ma orient ma potre su questo probabilmente è stato un impulso diciamo di un acquisto impulsivo quindi probabilmente a tornare indietro prendere di un altro colore anche questo nero con questo dorato insomma ecco a job player special proprio diciamo un gusto incredibile però l'utilizzo molto per il mare infatti la ghiera ogni tanto faccio girare la ghiera perché ho paura che si blocchi con la sabbia la salsedine però per l'attività acquatica è perfetto di qualunque genere quindi immersioni tuffi dalla barca dalla spiaggia chi più ne ha più ne metta ancora il citizen suiosa suiosa è un classico l'ho preso in colorazione verde perché il negozio è quello che mi ha colpito di più questo orologio secondo me rende molto più di quello che poi costa anche se insomma di fatto il valore di un orologio non è dato soltanto dal dal suo prezzo ma questo fa sempre una grandissima figura viene notato tantissimo il polso quando lo indosso spesso dicevo complimenti l'unica nota negativa mi avviso la corona che se da un lato lo rende diciamo esteticamente molto più apprezzabile perché quasi non si nota però è scomodissimo ad azionare ma sempre al solito discorso te devi pensare che chi pensa ad un orologio automatico pensa che quello è il tuo orologio tu lo utilizzi e la corona ti servirà una volta ogni morte di papa quando lo metti lì lo devi regolare no non ragionano che è come noi come me che ogni giorno cambiamo orologio quell'altro è fermo adesso no prendo proprio quello che è fermo prendo e vai la prendi i regoli di nuovo quindi utilizziamo anche troppo la corona è per quello che io ho la scatola del tempo no che dice non serve a niente è controproducente a me mi serve mi serve perché piuttosto che svitare una corona tirarla fuori fare le manovre caricarla manualmente qualche volta che è tutta usura così a gratis lo metto nella scatola della del tempo per qualche giorno so che ce l'ho subito pronto poi è logico che non ce lo lascio dei mesi faccio cambio a un certo punto lo tolgo lo metto via in cassaforte ne prendo un altro e utilizzo quello nella scatola del tempo e c'ho due o tre orologi sempre pronti senza dover appunto tirare fuori la corona caricare manualmente riavvitare nel caso di quelli a vite non tutte operazioni che stressano l'orologio no fate ogni giorno infine l'ultimo acchiappo preso dalla gialleria pasquale domenici quindi dal bravo di giacomo dagli soldi bravo e questo tisso di star mille peraltro tu hai fatto la recensione di questo orologio in colorazione nera giusto 5 6 giorni fa rispetto a quando sto registrando il video 40 mm in realtà quando presi questo avrei voluto prendere un emilton khaki field automatico da 38 mm quindi un orologio totalmente diverso poi di questo insieme a mia moglie ce ne siamo innamorati soprattutto quello che mi piace tantissimo anche perché eravamo a inizio estate il quadrante con questo colore turchese che certo sono due orologi con l'emilton khaki field e il tissue sister qualitativamente paragonabili no più o meno il calibro lo stesso le finiture siamo lì sono completamente differenti perché il khaki field è serioso sportivo ma serioso questo è sportivo ma allegro allegro felice non lo vedi che felice c'è il volto felice qui non rende assolutamente io provo a riprendere qualche riflesso ma la sua resa migliore è proprio in acqua c'è bello questo orologio da utilizzare per andare a male per fare il bagno e per stare alla luce del sole l'unico piccolo difetto sono le maglie lucide che raccolgono tantissime tantissime nitrate però secondo me è un orologio che rapporto qualità prezzo soprattutto con lo sconto con un vecchio giacno è un vecchio il movimento pur essendo il powermatic 80 nella sua versione basilare a 23 gioielli ma si è affidabilissimo la riserva di carica di 80 ore comodissima insomma un orologio di cui sono innamorato e che indosso con grande piacere per il momento la mia raccolta finisce qui spero di poterla implementare e di poterti aggiornare in futuro anche perché sennò la scimmietta va a prosciugare tutti i nostri risparmi saluto a te tutti gli amici del canale love la scimmietta onnivora che si magna tutto è tutto magna magna io l'ho sempre detto niente un bel 6 e mezzo te lo do questa simpatica collezione così non è nemmeno tanto numerosa non è che c'erano tantissimi orologi i primi tre ma poi c'è un bel emilton un bel secco un kamasu un soyoza è un tiso si star sei e mezzo te lo do sono tutti orologi validi bello mi piace il tiso si starmi da 40 mm mi piace come sulla stessa falsa riga c'è il mido il mido ocean star da 39 anche quello è bello che forse anche calibro leggermente migliore va bene poi il resto c'è un bel secone quell' emilton che abbastanza classicone è un po troppo classicone ma si l'hai preso in una situazione un po antica rispetto ad ora ai tuoi gusti che sono un po cambiati come si diceva prima cambiano i gusti bene 6 e mezzo te lo ho dato complimenti attendiamo nuovi video dai ciao davide ciao sono michele ti mando brevemente brevemente la mia piccola collezioncina partiamo subito cos'è quella cuccia tre quarzoni casio classico sul cino questo è un g-shock edizione one piece sono appassionato di manga e anime giapponesi vabbè ci sta senti tutti bestia anche il mio amico piero il mio amico giacomo della gioielleria sono appassionati di questo one piece di questi manga di queste cose qua mi fanno sempre una testa così con luca comics con tutte queste cose io rientra di qua mi esce di là proprio l'unica cosa che l'unico moto di gioia l'ho avuto quando ti su ha fatto uscire quello con goldrake ecco lì allora mi riconosco ai miei tempi goldrake allora si actarus venusia investione poi poi primo orologio automatico che ho acquistato quale sego 5 sport bello 42 sto qua vecchia edizione ci faccio tutto ciò dal mare tutto tutto con una pressione ma mi tiene tutto benissimo mi è caduto anche dalla bici in corsa ho fatto solo qualche graffietto qui poverino sulla ghiera ma non perde un colpo funziona benissimo la porto ancora al mare diverto e va ancora la grandissima meno male dai poi un altro sego sego 5 vintage anni 80 che era di mio nonno bello fatto revisionare funziona perfettamente è un classico della formalità non mi andava e le maglie non si trovavano quindi dall'orologio di fiducia la prolunga una volta l'ho utilizzato anche io questo trucco qua della prolunga l'ho utilizzato anch'io perché se te acquisti gli orologi vintage anche su ebay no come ho fatto con questo quadro col bracciale in acciaio è difficile che trovi quello che ha la tua misura perché le maglie aggiuntive non ci sono più ti arriva quel bracciale corto e te ti trovi l'orologio che non ci hai pensato e non ti va quindi una volta ho acquistato io si le vendono a parte quindi non si aveva nemmeno ho acquistato una di queste prolung e qua e mi sono fatto la prolunga non mi ricordo per quale orologio vintage degli anni 70 però ti viene fuori una clasp lunga così piena di forellini e cioè è una roba abbastanza fastidiosa da vedersi cioè andavo in giro così ciao allora come hai fatto a posto la nascondevo capito per la clasp adesso lo sfrutto lo sfrutti però così orient bambino open art non ti piacciono volevo un open art in collezione mi piace variare mi sembra di vedere terminator quando fanno l'immagine che c'è lui schwarzenegger e di qua tutto bionico no eccolo lì uguale col buco buco nel quadrante che mi fa vedere una roba sotto che è industriale al cielo un polso da un polso da 18 quindi 40 millimetri contento te mi sta bene mi piace poi ci abbiamo abbiamo commandirsky commandirsky posto commandirsky con paracadute carica manuale di aereo caduto e caccia bombardieri ho messo io questo giubilì economico che lo rende secondo me più più a sembra un analogio di categoria più alta di quella che con questo per me sta male per me sta male mi spiace mi spiace molto ma sta male una bella cassa bella sottile anche poi un altro seico cos'è 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 alpinist o della nuova linea prospects ci piace adesso io questo bel bracciale ma com'è vero la strap code ma no che si intonava con i numeri e le sfere del quadrante sembrava un patacone così da c'è la bella robusta di qualità zero molto molto bello molto molto bello dai sei contento contenti tutti eh ci abbiamo Hamilton cacchi field o bello configurazione con cinturino marrone 42 millimetri 32 cioè più come mi stava al polso 42 millimetri essendo un field watch quello da 38 non mi non mi soddisfava ma certo voglio scegli questa è la configurazione chiamata anche capitano rogers perché è l'orologio che indossava capitano america in in avengers nel film avengers se lo dici te bello everyday watch perfetto giubilissimo non mi dà fastidio l'antiriflesso che manca un po' va benissimo va bene dai poi passiamo gli ultimi due cosa sono che sono regalo dei miei genitori o classicone rolex sub minor date che non ha bisogno di presentazioni ma perché ci hai messo quel cinturino lì eh mostra i segni del tempo che è un orologio abbastanza vissuto ho messo mio padre per tanto tempo lo metto io perché lui con l'età ah non si può più devo mettere gli occhiali per vedere l'ora quindi allora basta orologio adesso lo metto io va bene ma ieri in alluminio i primi segni di di usura insomma in alluminio si perde di colore perde di colore però mi piace così ma certo l'ho messo io cinturino in gomma per l'estate più comodo il bracciale assicuro in cassetta non mi dirò troppo perché lo conosciamo certo bello orologio dai ti faccio vedere l'ultimo pezzo è quello a cui sono più affezionato e quello che mi piace di più dai che è questo omega costellation paipan bello quadrante champagne champagne costellato non so se si vede bene eh si appena revisionato bello questo era di mio nonno mamma mia che culo che c'è quadrante in perfette condizioni guarda che bella corona vedete tutto originario nel suo pezzo corona logata bella quella coronaria bandello classico con l'osservatorio il bracciale originale ce l'ho da parte ah per non rovinarlo troppo ci ho messo questo cinturino certo però adesso lo vorrei mettere nero secondo me ci sta meglio si 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 se l'ho revisionato l'allogiamo ha detto che te lo tratterò bene pure la metà di chi mi ha preceduto ti dura altri cento anni eh il meccanismo anche era pensate in ottime condizioni quadrante ma ora non ti viene un pochino di romanticismo un pochino di emozione a sentire che ti durerà altri cento anni per come è fatto cioè a me si a me si a me sinceramente si cioè te l'ho revisionato adesso puoi andare avanti altri cento anni ah tanta roba ovviamente originale non porta segni di di nessuna fioritura o umidità funziona perfettamente un pochino segnatelo eh dai e questo è il mio preferito eh bravo e niente grazie a Davide grazie a te spero che ti piaccia la mia collezione si e un saluto ciao 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 un bel sette e mezzo perché tutti i orologi come si deve poi con il submariner no visto ci hai messo il cinturino lì in gomma stavo pensando anch'io sullo yacht master di metterci un cinturinaccio in gomma per vedere come sta insomma la versione in oro mi sembra che esce anche con l'oyster flex no però io metterci ne uno così aftermarket e vedere un po' come viene fuori è una curiosità che mi era presa però poi non è che c'è ho tantissima voglia boh vediamo perché è bello anche il bracciale lucido che c'ho io su poi questo omega alla fine il pipe che vuol dire torta di tortiera praticamente pipe perché c'è quel quadrante che è bidimensionale con quello scalino che poi va in obliquo verso il rio e ci piace tanto tutti belli gli orologi i primi adesso a parte il quarzone vabbè il quarzone del gioccoli di one piece che non si può vedere che ve li comporte voi l'oria di bambino col buco sul quadrante non si può vedere il comandirsky con il paracadute e gli aerei sembra un luna park vabbè poi ti sei salvato col secco alpinist che però gli hai messo quel bracciale in oro che non si può vedere con la maglia centrale in oro che è pvd placata pvd colorata messa lì perché prende le lancette ma quello lì per quello che rappresenta per come è sportivo per come è quasi professionale no con la ghiera interna la bag e ci metti un bel nato un bel cinturino in cuoio e lo fai maschio così l'hai fatto un po' l'eddy boy l'hai fatto poi cosa c'avevi niente poi si passa a Levi il Tokaki Field top e al Submariner ultra top e poi alla fine il Lomenghino 7 e mezzo te lo meriti soprattutto per gli ultimi 3-4 orologi l'alpinist meno mato se lo puoi ancora recuperare dai prossimo video ciao Davide ciao ciao a tutti gli amici del canale e dove sei la radio sono Samuele da Firenze questo è il mio secondo video oggi vi faccio vedere alcuni nuovi orologi che ho in collezione bravo e vi propongo un piccolo gioco no questo è un Orient bambino piccoli secondi con quadrante champagne automatico è un orologio un dress watch che ha un bellissimo rapporto qualità prezzo fa la sua bella figura era arrivato con quel cinturino in pelle marrone originale Orient che qua è bello eh il gioco di oggi è vedere 4 orologi per la precisione con vari cinturini oh questo è una pelle martellato nero con in puntura effetto vintage color corda secondo me gli da una una bella impressione lo cambia notevolmente ho fatto anche un altro esperimento mettendoci un cinturino bracciale maglia milanese bocciato è più una prova perché non è di qualità eccelsa esiste anche l'originale Orient da 21 questo invece è un 20 infatti è un piccolo spazio però volevo vedere che effetto faceva e non mi dispiace l'ultimo è sempre una pelle vintage ma un color racing green inglese il gioco qual è ora premi la barra spazio e mi dici qual è quello che ti piace di più su quest'Orient oh eccoli qua ce li abbiamo tutti e quattro messi in fila allora quello originale no è troppo classico guarda lì sembra che stampa con quadrillo no 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 il baglia milanese 0 0 proprio da bocciare e io sceglierei tra il 2 e il 4 sceglierei il 2 con quel verdone così e con le punture più grandi arrivano quasi al centro il 2 ho scelto il 2 cosa ho vinto ho vinto qualche cosa passiamo al secondo orologio vai intramontabile pro master che ho voluto nella versione full lume è un orologio iconico e full lume secondo me lo è al massimo grado perché è istantaneamente riconoscibile da decine di metri di distanza anche qui il rapporto qualità prezzo è davvero ottimo arriva con questo bracciale che pur avendo alcuni difetti ha ad esempio l'allungamento muta per meglio dire allungamento polso sudato che non è affatto male ci ho provato un cinturino in tessuto dovrebbe essere un marine national se non ho capito male un single pass bello un pezzo di cinturino utilizzato come passante e non è affatto male questo blu ci sta bene dopodiché un po' ispirandomi al tuo giallo ho preso questo bianco che è proprio da spiaggia e l'ho preso perché è un single pass molto leggero perché la spiaggia è importante ma poi arriva l'ora dell'aperitivo e con questo nell'aperitivo penso di avere una marcia in più perché diventa così è full lume non solo non ci credo ma addirittura il cinturino dammi il tuo parere allora dammi il tuo parere quello è l'acciaio vabbè quello full lume cioè per l'aperitivo cosa il cinturino che si illumina l'aperitivo non si è mai visto per la discoteca quando vai in discoteca fai il figo tutto illuminato qua ma fai la figura anche dello scemo allora io voto per il nato blu io voto per il nato blu perché questo orologio qua si va bene il bracciale in acciaio io lo indossavo con il gomma il gomma qua non me l'hai mai proposto potevi proporre anche un gomma e se non c'è il gomma io ci metto il nato blu che secondo me d'estate lo rende anche più sicuro veramente se ti succede qualcosa che si deve staccare in acqua con i cinturini nato lì almeno al 50% ti salvi si devono staccare tutte le anse per perdere l'orologio nato blu vediamo il terzo orologio bellissimo un Hamilton Kaki Navi GMT mi ha sempre fatto impazzire quel triangolino rosso l'indicazione del secondo fuso esiste la versione braccialata ma io l'ho trovato col suo cinturino in caociu bello presente che fra l'altro elimina il gap sulla cassa questo scivolo sul davanti in alto e in basso che è molto gradevole ci ho provato un credo si chiami paratrooper elastico nero con questa riga rossa che riprende appunto il triangolino di qui sopra e secondo me non ci sta affatto affatto dopodiché un gioco nel gioco perché volevo metterci questo cinturino in pelle con impuntura rossa ma me ne mancava metà e ho ripreso quell'altro con impuntura bianca ma ripensandoci nella marina il bianco e il rosso insieme ci stanno benissimo e devo dire che vedendolo non mi dispiace affatto altro cinturino questo è un nato classico doppio passaggio quasi classico dopo vedrete perché trovo che la combinazione di colori ci stia particolarmente bene sembra quasi il suo per così un po' come il promaster di qui sopra questo nato ha una gradevole particolarità che è la striscia centrale in lume per la stessa tonalità degli indici e delle sfere e anche per questo rocio ti chiedo il voto allora qua è difficile perché mi piacciono tutti e quattro tutti e quattro mi piacciono ragazzi cioè sta bene con tutti e quattro probabilmente l'unico che scanterei è quello dove hai messo due spezzoni diverse ma non perché sono diversi con il puntura rossa e bianca ma allora in questo caso io ti dico che mi piace quello originale guarda quello originale che va a chiudere così le anse perché ha le anse lunghe questo orologio qua lo vedete quindi il nato secondo me va un po' anche il nato però sta bene anche il nato niente io voto quello originale veniamo all'ultimo che è un regalo che è un decimo anno di matrimonio da parte di mia moglie in collaborazione con un caro amico è un Mido Ocean Star Tribute Gradient rosso viene fornito con questo cinturino in gomma molto bello sgancio rapido è un orologio che il canale credo conosca ormai molto bene ed è davvero davvero bello solo che lo volevo rendere ancora un po' più elegante la Mido non fornisce questa colorazione col bracciale ma parlando ci mi hanno assicurato che è perfettamente compatibile e così ho messo questo bracciale lucido come la cassa a differenza dell'ultima uscita del GMT dell'Ocean che però mi piace non so perché è vero che la fibbia si riga un po' come forse vedete ma è normale anche questo all'allungamento per il polso e risulta davvero elegantissimo questo bracciale lucido queste maglie così particolari poi però andando verso l'estate mi sono detto perché non azzardare un po' di più cinturino in pelle rossa con in puntura vintage anche questo che d'estate ci sta secondo me davvero davvero bene chiedendoti il voto anche per quest'ultimo orologio ti ringrazio e ti faccio un grandissimo saluto oh in questo caso qua veramente anche qua sono tre che mi piacciono in tutti e tre i modi ragazzi il suo bracciale originale anche se non esce con il rosso lì è spettacolare veramente guarda guarda in questo caso io ti direi il tropic nero perché è veramente se poi è di quelli morbidi è il suo però voglio voglio andare voglio essere estroverso e scelgo quello rosso scelgo il pelle rosso che mi piace tanto che mi piace tanto ci stavo bene chiaramente è difficile trovare il punto di rosso giusto con il quadrante non so se è perfettamente in linea il colore a quel punto lì uno dovrebbe andare veramente a contrasto cioè scegliere un colore completamente differente però ci siamo quasi dico il pelle rosso con le punture sarò banale sarò stravagante potete anche voi ragazzi love 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 niente amico mio bella idea questa qua mi è piaciuto mi è piaciuto questo video qua così interattivo che mi hai mi hai tirato dentro perché mi sono anche appassionato a vedere un po' il sistema per vedere come stanno gli orologi con altre con altri centurini senza dover io mettermi lì a smontare rimontare lo hai fatto te mi hai tolto l'incombenza e quindi ci piace ecco i colori secondo me sui cinturini si può giocare con i colori hai visto ti hai scelto il rosso per il per il dial rosso per il middle ocean star io avevo scelto il giallo per il per il promaster si può si può andare soprattutto nella stagione estiva dove i colori siamo circondati dai colori la luce del sole è più forte i colori risultano più vividi quindi ci si può immergere nell'ambiente che sta intorno a noi essendo colorati ora un cinturino giallo o rosso d'inverno la vedo un po' però mi è piaciuta l'idea mi sono piaciuti tutti gli abbinamenti quasi a parte quelli che fluorescenti ecco se io dovevo eliminare quelli che al buio diventano luminescenti io li eliminerei perché mi sanno un pochino di carnevalata di luna park appunto in discoteca la sera vuoi fare il figo però non mi sembra non mi sembra il caso dai grazie per il video simpatico ragazzi anche voi commentate dite quali vi sono piaciuti di più perché è interessante sapere se magari corrisponde ai miei gusti o meno e detto questo vi ringrazio e vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 Grazie a tutti.